Il completamento del raddoppio ferroviario nella tratta Patti Castelbuono deve rappresentare una priorità e non finire nel dimenticatoio. Lo dichiara l'onorevole Giuseppe Laccoto, che ricorda di avere presentato in questi anni interrogazioni parlamentari e mozioni, chiedendo di sfruttare i fondi europei per realizzare il completamento del raddoppio ferroviario nella tratta Patti Castelbuono. Se si fosse approvata la mozione, che ho presentato l'1 ottobre 2021, afferma l'onorevole Laccoto, probabilmente a quest'ora avremmo compiuto qualche passo avanti nella definizione dello studio di fattibilità e del progetto esecutivo di completamento. Eppure dei 20 miliardi di euro destinati alla Sicilia, dal piano industriale 2022-2031 del gruppo Ferrovie dello Stato, la tratta Palermo-Messina non è stata nemmeno presa in considerazione I margini ci sono ancora se il governo regionale muovesse passi decisi avviando interlocuzioni ai massimi livelli con i ministeri competenti e con le ferrovie dello Stato. Il completamento del raddoppio ferroviario tra Patti e Castelbuono costituirebbe una svolta dal punto di vista economico e turistico per una parte di territorio che a fronte di potenzialità notevole di sviluppo paga ritardi infrastrutturali e di collegamento ormai cronici. L'alta velocità programmata nel tragitto Palermo-Catania-Messina, conclude il parlamentare siciliano, deve far fronte a numerose complessità ed è quindi necessario concentrare risorse ed energie su quel tratto di 80 km tra Messina e Palermo che attraverso un territorio dalle straordinarie potenzialità turistiche.